Benvenuti al secondo Long Play di AlexKid 3, Cursing Miracle World per Sega Master System. Ne ho fatto un altro perché in questo recupero anche la fiala segreta e la pergamena dei trucchi, mentre nell'altro no. Un'altra differenza rispetto all'altro Long Play è che in quell'altro cerco di percorrere tutte le strade alternative. Infatti in alcuni livelli è possibile scegliere fra due o più strade alternative. Invece in questo video scelgo quasi sempre solo quella che preferisco, la via che preferisco. Onestamente pensavo che recuperando la fiala magica cambiasse qualcosa di eclatante. In realtà effettivamente San Naruri non muore, che è quel signore anziano che liberiamo ad un certo punto nel gioco. È vero che non muore, ma cambia soltanto il messaggio che viene visualizzato. La scenetta è la stessa e il finale non cambia. Va bene. Grazie a tutti. 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 a tutti.